Ciao a tutti, sono Grizzly. Ogni domenica mattina vi sveglio con un diario di viaggio on the road, oppure vi faccio tormentare a seconda dei casi. E voi subito mi direte «Vabbè, ma oggi è venerdì, perché ci stai rompendo le scatole anche di venerdì?» Semplice! Per farvi sapere che questa sera, dalle 21.30 alle 22.30 circa, sarò in live su questo canale, e quindi di collegarvi questa sera, perché questa sera, con la live 39 per i 39, vi racconterò 39 curiosità e tante altre piccole cose, a proposito dei miei 39 anni, perché sì, oggi è il mio 39esimo compleanno, quindi vi raccomando, ci vediamo questa sera in live su questo canale, potrete interagire con me, potete farmi gli auguri in diretta, potete insultarmi in diretta, non c'è problema. Ci vediamo questa sera alle 21.30 su questo canale. Ciao a tutti!